Non una semplice rivendicazione scomposta di paternità, ma la descrizione di un percorso partito da lontano, affardata da sette anni fa, è arrivato oggi al prezioso risultato dell'estensione della copertura delle reti TNT sulla dorsale adriatico-ionica, che comprende anche l'Abruzzo. Un risultato che rende orgoglioso e fiero chi ha creduto da subito in questa possibilità. Anche un fidanzamento ha bisogno di anni per essere durevole e capaci di soddisfazioni. Per quanto riguarda l'inserimento delle reti TNT a favore anche della dorsale adriatico-ionica è un cammino cominciato nel 2014, che ha avuto un passaggio fondamentale che poi ha determinato il risultato di queste settimane il 28 di ottobre del 2015, quando il Parlamento europeo approva a stragrande maggioranza la richiesta fatta da Regione Abruzzo, dallo Stato membro Italia e da un gruppo di parlamentari che hanno nomi e cognomi, Massimo Paolucci, Cozzolino, Giuffrida, Ivan Iakovic, Gianni Pittella e Iakovic, capo dei liberal democratici, terza formazione politica tra socialisti e popolari, diventa relatore di maggioranza e accoglie la richiesta di Regione Abruzzo, vota e parla a favore, per cui il Parlamento europeo adotta l'aspettativa dell'Abruzzo e dell'Italia di estendere le reti TNT, la loro copertura dal sud delle Marche all'Abruzzo, al Molise, alla Puglia. Cosa potrà cambiare realmente nella vita quotidiana degli abruzzesi? Ve lo dico in breve. Sostanzialmente aumenta la quantità e la qualità dell'offerta trasportistica per quanto riguarda la velocità, la capacità e la connessione delle diverse modalità di spostamento. Terra, strada, cielo, ferro, acqua, affinché sia più facile arrivare da dove a dove al di là delle distanze. Migliora l'offerta ferroviaria sul piano della velocità e dei mezzi impiegati. Migliora anche la connettività attraverso l'acqua, organizzando un sistema di connessioni dei porti e dando maggiore forza ai porti di realizzare un'offerta di trasportistica via acqua, così come si riconoscono gli aeroporti facenti parte di questa rete. Diventa come una macro città l'Adriatico Ionico a favore dello spazio europeo. Nasce il cittadino europeo attraverso i trasporti.